Buonasera a tutti, aspettiamo qualche minuto che entrino gli altri e iniziamo. Fatemi un cenno se si sente bene. Si sente? Tutto ok? Sì? Tutto ok? Buonasera? Ok. Ok. Allora, un minutino. Possiamo anche direi quasi iniziare. Stasera vi voglio fare un regalo. Stasera vi faccio un bel regalo perché me la sento e voglio fare dei webinar sempre più tecnici e efficaci. Quindi stasera regalino. Almeno mi auguro che sia un regalo insomma. Allora, iniziamo. Vi leggo il disclaimer e poi iniziamo. Allora, l'utilizzo delle informazioni, analisi, articoli, segnali, training system, report, servizi e qualsiasi altro materiale presente al webinar sono da considerare solo a scopo educativo e informativo e non costituiscono sollecitazioni al pubblico risparmio o di offerta. L'utilizzo di tali elementi avviene a proprio rischio esclusivo. Pertanto essi non sono da imputare a Luca Benevelli e si declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità o all'esattezza del loro contenuto. Mi raccomando, facciamo sempre le cose bene. Allora, iniziamo. Vi condivido una slide del corso base che noi facciamo qua in sede online e in questa slide vi faccio vedere un pattern candlestick che molto probabilmente molti di voi già conoscerete. Aspetta che intanto mi... scusate un attimo solo che mi metto la chatta a vista. E qual è questo pattern? È i three white soldiers o i three black crow. In pratica i tre soldati bianchi, che vabbè poi possono essere rappresentati ovviamente anche verdi, blu, insomma sono tre candele rialziste fondamentalmente con massimi e minimi crescenti, nella migliore delle ipotesi, e i tre corvi neri o meglio rossi, insomma, le tre candele rosse, sempre con chiusura e apertura consecutive. In linea di massima questa conformazione candlestick viene definita ed illustrata all'interno dei manuali, diciamo, di analisi tecnica come un pattern di continuazione. Lo stesso pattern è vero che è un pattern di continuazione, ma l'utilizzo che ne faccio io, dopo averlo testato negli anni, è quello di inversione. Quindi utilizzo questo tipo di pattern per trovare un'inversione a grafico. Perché vi ho detto che vi faccio un regalo? Perché questo tipo di inversione funziona su qualsiasi tipo di time frame e su quasi tutti i sottostanti trend following, ok? Quindi quelli che in linea di massima hanno poi un'espansione di volatilità abbastanza immediata. Come molti di voi sapranno, io lavoro tantissimo sul DAX, sul DAX Future e sul CFD, di conseguenza questo tipo di pattern che ora vi mostrerò si presta in modo assolutamente sinergico a essere lavorato sul DAX. Però vi invito, come sempre, a darvi degli spunti e andare a vedere se poi c'è anche una sussistenza su altri sottostanti, variando dal Forex alle materie prime, criptovalute, eccetera, eccetera. Ora passiamo al grafico, così vi faccio vedere quello che faccio quando cerco una, ricordo, un'inversione di trend, ora vi condivido la mia MetaTrader, nuova condivisione, schermo 1, ok. Sposto qua, scrivetemi solo se si vede, così sono tranquillo, ma direi sì. Sì, si vede, grazie, ok. Ok, allora, siamo su il DAX, partiamo da un time frame basso, dal 5 minuti, e poi piano piano saliamo di time frame. Allora, come abbiamo visto prima, queste tre candele consecutive dello stesso colore, in linea di massima, sono illustrate su tutti i libri come candele di continuazione. Pattern di continuazione. Ovviamente succede, succede perché se siamo di fronte a, ora qua siamo su 5 minuti, quindi stiamo parlando proprio di piccole fasi, di mini trend, chiamiamoli come volete, in linea di massima ovviamente ci sono anche tre candele consecutive, tre candele consecutive che portano magari a un proseguimento di trend. Ora, ho preso in considerazione tre candele rosse di ribasso, possiamo prendere anche tre candele verdi, poi effettivamente il trend ha proseguito nella sua direzione. Però quello che vi voglio far vedere è qualcosa che funziona molto meglio, molto meglio, ed è importante perché non c'è cosa più difficile e più importante di avere chiara, molto molto chiara, con una profittabilità, una percentuale di, diciamo, di possibilità dalla nostra veramente molto molto alta. E l'utilizzo di queste tre candele viene fatto, come vi dicevo, o sui massimi o sui minimi. Io ora me ne sono segnati alcuni sui vari time frame per fare un pochettino prima, ma ora piano piano magari escono anche da soli. Allora, questo no, ve lo faccio vedere dopo, che c'è una piccola variante. Ecco, quello che vi voglio far vedere è questo. Allora, abbiamo, ve lo zoom un pochettino, abbiamo effettivamente, siamo su un minimo di mercato, per me il minimo è semplicemente in una rappresentazione di schermo normale, guardare a sinistra e non trovare niente, quindi senza troppo zoom, senza poco zoom, normale, guardo a sinistra e io vedo che qua sono sotto i minimi, anche perché sono su un cinque minuti, quindi il mio minimo, diciamo, relativo, poi è questo qua. Ok, quindi cerco una zona di minimo dove posso avere un'inversione. Le tre candele che vado a cercare, quindi i three white soldiers, le tre candele verdi, o chiamiamole come vogliamo, sono non semplicemente a metà del grafico, come in questo caso, quindi per me non è un pattern di continuazione, come viene scritto normalmente sui libri, perché di continuazione, per quanto mi riguarda, non ha niente, o comunque testandolo, la dimostrazione è, ora, ovviamente siamo su dei time frame più bassi, su time frame pian piano più alti, ovviamente c'è magari maggior continuità, però il discorso non cambia, l'utilizzo che ne faccio io non è assolutamente questo, perché è deleterio per quanto mi riguarda, l'idea personale, ma è questo, ovvero io cerco una candela di esaurimento, che peraltro abbiamo visto nel webinar di lunedì scorso, e se qualcuno non l'ha visto, vi invito a darlo a vedere sul canale Ticmill Italia di YouTube, perché è importante, quindi candela di esaurimento, e abbiamo all'interno della candela, abbiamo praticamente i tre soldatini bianchi, quindi le tre candele di inversione con massimi e minimi crescenti, ora ve lo posso zoomare un pochettino, quindi abbiamo una candela rossa, che è questa, che poi noi lo scopriamo dopo, che è la candela di esaurimento, perché prima dobbiamo aspettare questi tre, se si sviluppa un pattern a tre candele interno, e vi ricordo solo ed esclusivamente interno al corpo della candela precedente, in questo caso se siamo a rialzo, io uso le rosse a ribasso, quindi deve essere interno alla candela rossa, allora io posso entrare al mercato, e vi assicuro che più sono piccole, e più sono interne alla candela precedente, io qua ho uno stop indicativamente di 16 punti, punti, 17, facciamo 20 per stare un dito più larghi, guardate, facciamo 20, qua siamo a 20 punti, ci siamo tenuti un po' più larghi proprio della spike del minimo, e vi posso assicurare che il cambio di marcia, il cambio di trend è esagerato, questo è quello che succede da queste tre candeline, guardate, questo è quello che succede con quelle tre candeline, se le tre candeline non sono esattamente all'interno di una candela, come vi ho fatto vedere prima, può essere sì una fase di continuazione, ma in linea di massima non ha la stessa efficacia che vi sto facendo vedere io, quindi questo è il minimo, andiamo indietro per vedere se ne troviamo altre, ovviamente non vi aspettate che tutti i giorni escano tre candele interne a una candela, perché altrimenti io non sarei qua a fare il webinar, ve lo dico molto chiaramente, avrei proprio finito, avrei finito, vediamo se sul cinque ce ne sono altre, vado un po' indietro, se voi ne vedete una, eccola qua, eccola qua, guardate, questa mi era sfuggita, candela rossa, tre candeline interne alla candela rossa, ok? Uno, due, tre, piccoline, siamo non esattamente sul minimo, ma siamo in una fase di minimo, eccolo qua, scusate, ne ho beccato un altro, che era il minimo assoluto, ed è questo, eccolo qua, guardate, una, due, tre, tre candele interne con massimi e minimi crescenti, all'interno di una candela di esaurimento, quindi candela un po' più corposa, possibilmente, finito, trend finito, uno, due, tre, questo è il primo, il primo ingresso che si può fare, ora vi faccio vedere cosa comporta fare un'entrata di questo tipo, guardate, ha tirato fino a sera, uno, due, tre, qua ci sono state delle spike sotto, per andare a fare l'ultimo tentativo di flessione di mercato, tenete presente che quello che mi interessa è che non si chiuda assolutamente sotto al minimo della prima candela, sotto all'apertura, scusate, della prima candela blu delle tre consecutive, ok? Questa è leggermente sporca sotto, però va bene, alla fine non è che dobbiamo fare i farmacisti, però va bene, va benissimo, siamo interni, abbiamo tre candele a copertura, su una candela di esaurimento più importante, quindi noi fate conto che il grafico lo vediamo praticamente così, vedendo un grafico così, uno dice, va bene, ma cosa succede? Io invece di qua vi assicuro che in linea di massima qualche punto su, poi me lo va a tirare, e me ne tira parecchi, parecchi di più. Si è sviluppato anche qua, peraltro, eccolo qua, candela un po' più grossa, uno, due, tre, non aveva proprio i massimi e i minimi, però come vi ripeto, quello che, in, quello che è a rialzo, è questo, ok? Allora andiamo a vedere, ecco, ora vi voglio far vedere un altro caso, ora per esempio questo è un lato short, come potete notare, la terza candela di chiusura, mi chiude sotto al minimo, dell'apertura, scusate, della candela blu, in linea di massima, questo non è la stessa cosa, quindi ora qua noi lo vediamo che effettivamente va, va benissimo, ce ne tanti che funzionano, ma altri che alla rottura della candeletta, comunque c'è un po' di recupero, quindi a me quello che interessa farvi vedere, è questo, cioè che la terza candela chiuda all'interno e dentro al corpo della cadena precedente, ora vediamo se ne troviamo altri, eccolo, questo per esempio è un altro, 1, 2, 3, qua c'è stata effettivamente una sporcatura del minimo, però in linea di massima, questa era l'operazione da fare, c'è stata una sporcatura perché guardate, poi non è riuscito a salire e ha fatto una, un'inversione, ovviamente su 5 minuti sono un po' più morbide, chiamiamole così, e ora vi faccio vedere poi altri time frame, e ovviamente il, si sale, si sale di performance, si sale di tutto quanto, mi raccomando, non mi confondete l'inversione del trend, con, che ora ve lo faccio vedere, con questa roba qui, cioè, in linea di massima, prima dovete avere un'idea di dove stiamo andando, quindi queste tre candele, con questi minimi a rialzo, non vanno bene, ok, questa non mi interessa, non siamo sul minimo, se guardo a sinistra, ok, ci sono parecchi, il mercato è stato parecchio lavorato, poi vabbè, ora qua sono le 6 del mattino, ora sto andando indietro così, non è che mi, mi sono guardato prima, però, in linea di massima, non confondetemi, i minimi, con questo, cioè, quello che mi interessa, è, non avere proprio, possibilmente, niente, niente a sinistra, questo è il 5 minuti, ora, no, forse, non so se me ne sono segnato o altre, ecco, questa è la cosa che vi volevo far vedere prima, c'è un tentativo di rottura ribassista, però vedete che questa candela non ha chiuso interna alla candela precedente, e di conseguenza, poi, il mercato invece non è partito subito, ma stanziato, poi vabbè è sceso, ma lo vediamo dopo, così è semplice, ha stanziato nella zona, ora guardavo se ne trovavo altre, se no poi passiamo a dei time frame un po' più alti. questa di nuovo, vedete, sporcata, eccola qua, eccola qua, eccola qua, 1, 2, 3, eccola, candela rossa di forza, ne arriviamo da un movimento forte a ribasso, candela di esaurimento, bella corposa, 1, 2, 3, candela blu, guardate, in linea di massima di qua, poi si inizia a salire, anche qua, erano, là, è andato a sporcarselo, però poi effettivamente, guardate, è durato praticamente tutto, tutto il giorno, ok? Quindi è una, eh, un pattern, molto, molto potente, qua, guardate, 1, 2, 3, non ha fatto massimi, non ha fatto con, scusate, chiusure, aperture attaccate, candela un po' piccolina, però anche di qua, guardate che bomba, e, eh, ricordatevi che qua abbiamo, vabbè, lascia perdere che era, l'1,45, però abbiamo dello stop molto piccolo, in funzione dei profitti, questo è un, un setup che, che rende, 15 minuti, 15 minuti, anche qua me ne sono segnate alcune, ve le faccio vedere, siamo sul, eh, è oggi, è oggi, eh, ieri, non so se qualcuno ha visto, c'è stata una, una fase di rialzo molto, molto importante, eh, ieri, scusate, venerdì, 1, 2, 3, no, sono le 9, 9,45, e da questo momento, il mercato, come potete notare, è rimasto, eh, all'interno di questo massimo, ora, non lo sappiamo dove andrà, ma è rimasto, all'interno di questo massimo, stop sopra, stiamo parlando di 57 punti di stop, e poi a scendere, ok? Vediamone altre, se le becchiamo, vediamo se ne becchiamo altre, ormai ho l'occhio bionico, quindi vado abbastanza veloce, vediamo se ne troviamo ancora, pum 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 pum, non ne vedo, se ne vedete me lo dite, eccola qua, 1, 2, 3, eccola, poi la faccio vedere, 1, 2 e 3, eccola qua, questa qua, è un'altra, aspetta che faccio così, così la vedete meglio, ok, vedete, si sta dentro la candela rossa, a sinistra del grafico, non abbiamo niente, in una situazione di schermo, diciamo normale, ora l'ho zoomato anche un po' di più, se lo zoomo anche meno, è uguale, a sinistra non ho niente, quindi, in linea di massima, siamo su un fondo, siamo su un minimo, e io, mi entrano tre candelette, cosa faccio? Ho uno stop di, in questo caso, c'era un po' più di volatilità, ho uno stop di 53 punti, e vado a prendermi, tutta la giornata, a rialzo, 227 punti. Vediamo se ne vediamo ancora, ma direi che indicativamente, penso di essere stato abbastanza chiaro, e di avervi fatto un bel regalo, stasera, perché è giusto che, si dia, qualcosina in più, qua, me li sono segnati su altri time frame, ecco, vedete qua, per esempio, ha sporcato, quindi, già un po' meno, vedete, non entrano tantissime, però, quando entrano, occhi aperti, perché, avete veramente un ottimo, ottimo, ottimo vantaggio, sul mercato, ecco, questa qua, per esempio, vedete ora, vabbè, sempre un orario, che sicuramente saremmo stati a dormire, però, anche qua, guardate come ha tenuto il minimo, e poi, sporcatura, ma è un po' partito, comunque, a luna e mezza. Allora, saliamo di time frame, andiamo su un 30 minuti, 30 minuti, vediamo se becchiamo qualche minimo, 1, 2, 3, niente, 1, 2, 3, niente, aspettate che devo, deve selezionare qua, niente, 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 po, 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 niente, eccolo, infatti l'avevo segnato, eccola qua, 1, 2, 3, candelona di minimo, a sinistra, non ho niente, quindi questa è una candela di esaurimento, vi ricordo, lo vedo dopo, che è una candela di esaurimento, guardate come la partenza addirittura è piccolissima, quindi proprio con una candela di insignificante, senza corpo, 1, 2, 3, stop sul minimo, ovviamente stiamo salendo di time frame, quindi siamo su 30 minuti, ho uno stop di 114 punti, però se vado a chiudermi la giornata, ne prendo 223, ok, vediamo se spunta, ecco qua per esempio è entrata un ribasso, però ne eravamo sui massi, però guardate, tant'è, la sua discesina per tutta la giornata se l'è fatta, vediamo se ne troviamo un altro sui minimi, vedete qua ne ha fatte tre, però se è andato a mangiare quella prima non ci interessa, perché se no vi torna indietro, questa potrebbe essere interessante, questa potrebbe essere interessante, allora ne aveva già fatte tre, qua, era orario sicuramente in tarda serata, se l'è andata a bruciare, però qua siamo sul CFD, quindi chiusura ore 22, in realtà questo è il pezzo successivo alle 22 del CFD, comunque sia poi ore 3, quindi su questa candela, come potete notare, quindi in apertura anche del Future, ha fatto le tre candeline, ha fatto le tre candeline, ha fatto una piccola sporcatura di 34 punti, ma se andiamo a vedere, anche qua, alla fine, abbiamo 200 punti di gain, giornata completamente rialzista. Non lo so se ce n'è ancora, eccola, guardate che meraviglia, cancelliamo, che me l'ero segnata, 21 aprile, ore 14 e 30, 50 punti di stop, 260 punti di gain. Un'esagerazione. E poi direi basta, direi basta. Ah, ecco qua, di nuovo non confondete queste tre, perché come potete notare, abbiamo dei minimi più bassi anche, e quindi qua non siamo in una zona di ribasso del prezzo, ok? Ci deve essere proprio un movimento di finale, di finale, va bene. Andiamo su un time frame più alto, fatemi un cenno, ecco, guarda, ce n'era un'altra, ve la faccio vedere, candela forte, sparata, qua sono le 15 e 30 del 29 marzo, 1, 2, 3, stop di 115 punti, poi effettivamente qua eravamo, la giornata era già terminata, però il giorno dopo mi sono preso 230 punti. Ah, eccola, guardate qua, 1, 2, 3, siamo su, eh no, qua non eravamo su minimo, effettivamente, l'avevo segnata ma non l'avevo visto dietro, non siamo sul minimo, è andata lo stesso, e comunque va bene, è andata lo stesso. Saliamo un pochettino, giusto da vedere ancora qualcosa, ma direi che abbiamo finito, H1, vediamo se troviamo un altro setappino, eccolo qua, siamo al 10.5 2022, stiamo dentro alla candela rossa, oh Belin, mi è scappata, mi è scappato anche il Belin alla Genovese, 1, 2, 3, stop di 164 punti, a chiusura di giornata, già sono 177, 1 a 1, ma addirittura, insomma, anche il giorno dopo, mi ha, mi ha dato un bel benefit. Allora, questo è quanto, non vado oltre, tanto non cambia, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, datemi un feedback, ditemi se avete capito, ditemi se vi è piaciuta, perché vi ho dato una bella bomba, credo, spero, spero, se è tutto chiaro, penso di sì, molto interessante, scrive Stefano, Marco Paolo dice, notevole, mi fa piacere, grazie, tutto chiaro, bene, sono molto contento, allora, vi a questo punto, anche se è durata solo mezz'ora, però direi che è stata mezz'ora, che vale, vale abbastanza, io vi ricordo che sono assolutamente a disposizione sul mio sito, daxlabstrategy.com, non vi nego che dopo dieci webinar, un po' di pubblicità me la voglio fare, c'è la possibilità di fare dei corsi anche di analisi di mercato, c'è la possibilità di fare i vantaggi statistici, c'è la possibilità di fare dei master, io da parte mia sappiate che le cose devono funzionare, perché se non funzionano è inutile che qualcuno perda tempo, io non voglio perdere tempo, quindi se qualcuno ha interesse a vedere qualcosa di più approfondito, semplicemente daxlabstrategy.com, mi scrive, tanto rispondo io sull'email principale e vediamo quello che volete, questo è un qualcosina, un piccolo proprio un antipastino di quello che è il mercato e di come va affrontato il mercato, di come trovare dei vantaggi statistici che passano nel tempo, è inutile perdere tempo a cercare la candelina, lo cerco o non lo cerco, ci vuole qualcosa che torni, che funzioni, che ci sia uno stop proporzionatamente più piccolo del rendimento, che non ci sia da starci addietro, che non ci sia da mettere troppi indicatori, controindicatori, va bene, funzionano anche quelli, però quello che funziona, la vera ciccia, la si trova in una maniera completamente diversa, quindi l'analisi di mercato va fatta in una determinata maniera, quindi io mi rendo disponibile a parlarne con chi voglia e fare qualcosa insieme. Se è tutto chiaro e mi sembra di sì, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo webinar. Ciao a tutti, grazie, grazie a voi, grazie, grazie.